La tua attività sarà pronta a ripartire? Noi ci siamo! Con noi puoi avere una grande carta di vini senza investimento. Paghi solo se lo vendi. Su navi per mani e io lo so non esistono più. Alla cantinetta e ai vini, ci pensiamo noi. Ripartiamo insieme. Chiamaci al numero verde. 800-83-18-14. O scrivi a info-aep-pistoia.it Il noleggio strumentale per qualsiasi tua necessità.